I trend principali che possiamo vedere dal nostro osservatorio privilegiato di YouTube sono ovviamente il primo, quello del video online, che è inarrestabile. Ormai tutti fanno solo video, il pubblico guarda solo video e soprattutto la fascia di generazione più giovane è interessata solo ed esclusivamente al video come linguaggio per comunicare, imparare, creare e quindi come forma di espressione principale. Un altro trend decisamente rilevante, soprattutto per le cose di cui stiamo parlando oggi, è il contenuto. Il contenuto come nuova forma di advertising e soprattutto come nuova forma di narrazione per i brand che possono utilizzare il contenuto per intrattenere il loro pubblico, raccontare i loro valori e distribuire il loro messaggio.